Salve gente io sono Emanuele V11 e benvenuti in questo nuovo video Siamo ad Untarned e ce l'avete chiesto Più precisamente ce l'avevate chiesto cosa ce l'avevano chiesto questi ragazzotti che guardano i nostri video Di fare una serie survivale Si sono sul crinale della mont- sul crinale del monte Si ci avevate chiesto una serie survival Ora per scuola e per tutte le cose lì diciamo che aspetterà un attimo Però arriverà anche quella, arriverà? Dimmi di sì, dimmi che arriverà Sì e non sì e non diciamo Diciamo che arriverà e basta E sarà una grande serie Con tanto diverse delle balene E una pescheia Ah poi so lei è la cosa Mi ha battuto sul tempo E comunque siamo qua su una battle royale E si E sono qua con Iacopo che lui si è sul monolito Esatto, lui si è ricordato di mettersi le schiene E' prima era uscito per quello Io me ne ho dimenticato, stiamo all'erta perché qua C'è un aristocratico del XVIII secolo Siamo un po' cello comso che va Eh sì, era quella l'idea Ma hai risolto, sì perché cello comso famoso vissuto nel 1700 Il famoso vissuto nel Nel vivendo Nel vivendo Non ho mai letto un monolivo di cello con No, sinceramente Que qua mi pecca Eh Lei non sa le parti dove fuma la cocaina Fu fuma la cocaina Eh è la parola giusta E si mette la cocaina nella pipa Io non credo che funzioni così Lo dica il signor cello che può alzino Sì, la mia vita Meta Moretz Sì Il laser me lo lascia a me Ah vabbè, effetti Tenga Ah non si può fare così Vabbè, vabbè, se lo tenga lei Se lo tenga lei Ok, stiamo all'erta Ci sono sei persone E due delle quali siamo noi Continuiamo a muoversi A muoverci Sì Aspetta che Almeno c'ho anche la Yuri Ah, sparano a noi Non lo so Andiamo a vedere Non c'ho un mirino Buono per tirare alla distanza Quindi Aspetta che faccia prendere questa prima che Vai Bene, bene, bene Hai visto che sono i kit medici Ho visto che sono le bande su tre Molto utili Allora, vediamo un po' cosa possiamo fare Se trovo un mirino siamo a cavallo Non siamo potuti andare alla Reagan perché era di là Secondo me sono tutti incentrati verso Centro per me Avanziamo piano piano nella Boscaglia Infatti ora vado dietro quest'albero qui Io vado un po' più avanti che sono un po' a saldo Un mirino di merda Quello sta andando? No, quello il ref, il cobra Non c'è neanche il puntino C'ha le tre cosine Eh, sì C'è qualcosa laggiù Però non so se è vivo o morto No, è vivo Guarda, l'ho colpito L'ho colpito Non lo vedo Dietro monolita L'ho colpito in testa Ora Lo vede dove c'è la chiazza di sangue laggiù? Quel monolita Aspetta, c'è uno qua laggiù? No, non lo prendo Allora, la vedi là giù il monolita La vedo, la vedo Sei sdraiato Allora, non lo prendo Neanch'io Ah, la nebbia Si sa che si è buttato O è stato accoppato Ok No, ecco, ecco Ok, lo vedo uno Dove? Lo vedo anche io Troppo più di testa Bene, l'ho colpito Bene Bene Ne ho elevato 95 colpo Senti, io lascio e te guarda dove sono i nemici Ok, c'è uno qua giù Dall'altra parte, poco di nuovo, però non lo prendo perché È troppo piccolo Ah, io mi ho preso C'è chi dall'altra parte del mondo Ti spara con un calcio e la pistola rotondo Come fa sparare con un calcio e la pistola? Rotondo Ok, sono qua dietro Io la copro un po' Arrivo Non so dove sono i nemici, quindi Uno era dall'altra parte dell'isola Ne mancano due da ammazzare Uno so dove è l'altro È sotto l'acqua, si sarà bendato Però l'ho colpito tante volte Ah, mi sparano Bene, l'abbiamo occupato Rimane l'ultimo Eccolo lì, sta uscendo Bella Oh sì, si fa Oh sì, si fa Fuuu Vittoria Un applauso, eh Si parte bene, prima partita, prima vittoria Come quella canzone The boys are back Are back Ok ragazzi, secondo Seconda partita, seconda è utile Non ce lo traino, già si parte male, se non ce lo traino Non ce l'ho neanche Sto correndo verso la prima Trovare un'arma decente qui subito Ma c'è anche una delle persone in questo Ma c'è anche una delle persone in questo Ma c'è anche una delle persone in questo La Iuri che non è male Non è una arma A sottovalutare No Molti a sottovalutare Molti a sottovalutare No Io mi sono molto assalti Io mi sento di trattarla con rispetto Aspetta, no, mi sento di trattare Cazzo, aspetta Che so qua, sa Sa un po', mi sa Eccolo Sì Però io c'ho la Iuri Dici che se il rush c'ho la meglio Dipende che c'è lui, se c'è la scappa E' ucciso E' ucciso Aveva anche lui una Iuri Ah, ok Zaino E' tutto Mi prendo anche la sua Iuri per il caricatore Per il caricatore Di merda Perfetto, perfetto E' stata una bella azione dal mio punto di vista Ci incontriamo 26 E' show a K Iuri Ah, ok, sarà giù in fondo Grande Corro alla Reiganio Ok, aspettami un secondo Arrivo anch'io Aspetta, qui a metà strada almeno, forse, perché se come conosceva Nel pescaio No, mi sa che scompare prima, scombarisce, sta per scombarisce Eh, non c'ho bene, però C'è la Reigan C'è Troviamo Sì, lo preso Ok, tetto non puoi indietro Siamo anche avanti Siamo anche avanti C'è, venga qua, ne vedo uno laggiù Sono dietro i tiri Ti rilevente per terra Sì Sì Ok, basta in questo Eh, anche perché diccerò un'altri due soldi Vabbè, c'è da capirlo, magari c'è chi dall'altra parte del mondo che sai che fa Sì Ecco qua, un dressing Allora, le vediamo un poco Sta' attento, non avevo visto un andare nel centro Uno del metro è morto, c'è un cadavere Che bello poter zoomare Ragiamo con Cotella, stiamo a piedi monte Io non so la Reigan, non mi dico Sei shotta la testa, non sei nel metto Però a notte le avanti Lascia con uno di vita Ti faccio Ti faccio C'è un certo inquinamento C'è uno Sulla spiaggia arrivante fronte a noi Ho visto Vado più avanti Se lo prendo la testa lo ti distruggo Eccolo lì Ho tirato io una laggata Fermo Aspetta Fermo E' morto, lo spreco Il mio colpo per lui era troppo facile Probato Zuberkano Cambio, cambio arma tattico Cambio arma tattico Aspetta, cambio arma tattica Lo vedo Dov'è? Io ho sentito il botto Dov'era? L'ho scelta da destra Nel mezzo Guarda il clipino Guarda il clipino Dopo le mando il clipino Perché è stata una scena magnifica Che dici? Non c'è due senza tre? Eh oh Ok ragazzi facciamo la finale Perciò sponata canton tizio Ciao tizio le dite Beh ho detto Sono sponato canton tizio Prendi il fucile e spara Dove? A po' ora di un incontro a fuoco Quattro e monolite Quattro e monolite Ci dobbiamo arrivare Per prima Un c'è kit medico Ah Rendezvous Rendezvous Io sono a canto Io sono a canto Manca solo una iuri Vendere il metto Oh un amico rievo Aspetta un drum Un drum Un drum è utile Lei vende cose del genere? Certo ce l'ho Anche due caricatori Matamore Non ho la iuri Neanch'io Però Per il resto ci vedo Ah sto vibrando Ok A me serve Il penne su mirino Per non lascia nulla Ok dove andiamo? Sinistro Adesso Delgan Delgan dove No No Andiamo di qua Ok Le vado avanti che io c'ho il check in Eh ma non c'ho il pugnatura però c'è il drum Tipo faccio Con la Lo fai il Non c'è da mirare Faccio di bocante strike Vediamo un po' Perché c'è chi dall'altra parte off del mondo Stiamo attenti eh Queste zone qui sono passate perché sono aperte Che ti potrebbero vedere Spar vicini Molto vicini Te guardi monoliti Io c'è che individuare Non c'è nessuno Non c'è nessuno E' qua sotto secondo me Molto vicini Monoliti a sete eh No No Lo vedo Lo vedo La faccia per farla Non ho mai preso Anch'io Il troiaio Eh senza pugnatura è dura Eh lo Mi vuole far finire colpo Fa tic-tac Son qua vicino io eh Lo prenda dai Io lo prendo da sinistra Te vai da destra E' qui aspetta Ah bella E' stato un po' lui un pioppo eh Eh non pioppo perché era finito Era fermo Era un pioppo veramente Ma c'è un'altra cosa Ma c'è un'altra cosa Ma c'è un'altra cosa Però ti devi spiegare a prendere No non faccio Ho il drum e sai come Capito se diverte a drummare Si A drummare tipo a batteria C'è un drum Si E' attento eh Guarda un po' nel centro Che dove è prima Dopo dove sarà prima Ok c'è uno nel centro Stavo 5 attenzione eh Paritela Non ci arrivo Si non ci arrivo al centro Aspettiamo un attimino Guardiamoci spalle Se hai scelito un alberello Guardiamoci a destra E manca da tutti Sono due al centro Sono due amici Non ci arrivo che palle Io vado un pochino più avanti Arrival vado al monolito Allora quindi c'è Ce n'è soltanto uno extra Stiamo attenti Se ci sono loro due Uno extra Stiamo attenti Qui dovrei avere Stamppredo 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 Ok stiamo amatissimo Ero finito Aspetta cere A te No 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 Tanto non ecco per via mereta 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 Ah Positive SON bem Corro La feghe colpi Troppo 2 2 a mano mazzato salura era dura erano forti t usano bene distanze anche se io ti coprivo tannus molto bravi apro lo ucciso 25 reputazione a un buono e alla fine una l'ho ammazzato allora che diciamo che diciamo questo pubblico ho perso della balena allora ragazzi questo era un video battolo royale i panciano inizio e vabbè presto finita l'ondate di verifiche magari una serie messe che faccio e che mantengo il film da modestia delle sue parole per una volta da me jacob è tutto alla prossima no non è tanto di te ciao eeeh quanto è arrivato vicino questo da dove però con quale spedizione buona aspetta tieni tieni questo merino ma scusami se ci ho buttato qui dietro il monolito tranquillo c'è la nicola grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti